Un altro dei pericoli per l'umanità futura è la cosiddetta, dico cosiddetta, intelligenza artificiale. Allora, Francesca ha pubblicato un paio di tweet su questo argomento, facendo ben intendere, insomma, ecco qua, Francesca, lo spiegate voi a questa signora, poi dopo ci dici chi è la signora, noi lo sappiamo, insomma, vogliamo che lo dici tu, che praticamente la cosiddetta intelligenza artificiale presto potrà sostituire tutti gli insegnanti e non solo, perché anche Bill Gates ci dice che fra un po' sostituiamo tutto, insegnanti, medici, questa, cioè praticamente tutti a casa a fare cosa, però non si capisce che c'è una macchina che ci dice cosa dobbiamo fare. Noi sono tantissimi anni che diciamo e mettiamo in guardia dai pericoli della cosiddetta intelligenza artificiale. La parola intelligenza è impropria, diciamo questo, poi lascio la parola a Francesca, perché sappiamo che tra l'altro fra pochi minuti ci dovrà lasciare. Allora, la parola intelligenza è sbagliata, perché non è un'intelligenza, l'intelligenza è propria solo dell'essere umano e degli animali in generale, perché è singola, è relativa al singolo individuo, al singolo animale, ognuno ha una sua intelligenza e quindi reagisce agli stimoli in modo differente, ognuno di noi ha un'intelligenza, quella è l'intelligenza. Le altre sono macchine programmate ad eseguire comandi e ordine sulla base desiderata di chi le ha programmate. È vero che le macchine reagiscono ad un impulso esterno, ma la reazione è sempre stata programmata da qualcuno. Quindi non si può chiamare intelligenza, è una macchina al servizio di chi l'ha programmata. Questo è il primo pericolo. Il secondo pericolo poi, ovviamente, è l'atrofizzazione della nostra mente, delle nostre conoscenze, della nostra cultura. Se tu mi dici, vi ricordate la pubblicità di Amazon? No, no, di Alexa, no? E il figlio che chiede al papà, dice dove stavano le piramidi, e quello non sapeva, si rivolgeva ad Alexa e poi finisce la pubblicità, non c'è più bisogno sostanzialmente che tu vai a scuola perché le cose te le dico io. Ecco, che è una cosa abberrante. Ecco, lascio la parola a Francesca perché anche su questo immagino ci siano delle cose a dire perché anche tu sei a Strasburgo adesso, ecco, da quelle parti mi sembra che è un'altra di quelle cose che viene promossa come una meraviglia del futuro senza parlare, ovvero nascondendo quelli che sono i veri, i grandissimi pericoli di questa chimera. Ma allora, diciamo che al Parlamento europeo di intelligenza artificiale si parla, e su questo tema si lavora da più di un anno, infatti andrà al voto a giugno l'Artificial Intelligence Act, cioè un regolamento europeo che tra l'altro è stato finalizzato nella commissione di cui faccio parte, la commissione ITRE, che appunto tende a normare l'uso, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Io ho presentato una novantina di emendamenti ancora un anno fa quando si è appunto si è affrontato in commissione questo file. Qual è l'approccio, diciamo, del Parlamento europeo, dell'Unione europea? Quella di arginare un po' la libertà di utilizzo e di sviluppo di questi sistemi laddove si vengano classificati come ad alto rischio, cioè quando abbiano delle caratteristiche che oggettivamente ed evidentemente possano mettere a rischio appunto le persone che li utilizzano. Il tema è che questo tipo di paletti sono troppo modesti e io dubito caldamente che saranno efficaci a contenere i veri rischi. In realtà manca totalmente un dibattito pubblico, un debattito mediatico, a livello di opinione pubblica, a livello di politica nazionale quantomeno. Io non ho mai sentito i nostri politici parlare di questi temi che coinvolgono degli aspetti etici, sociali, anche di salute proprio, di sanità delle persone. Perché vedi Fabio, quello che tu dicevi è vero fino a un certo punto, perché ormai il livello di sviluppo dell'intelligenza artificiale è tale che la preoccupazione attuale, ed è una preoccupazione che è stata sollevata da persone come Elon Musk e un altro migliaio di grandi big della tecnologia, è la preoccupazione attuale che lo sviluppo così rapido, così fuori controllo dell'intelligenza artificiale, possa davvero sfuggire al controllo umano. Cosa intendo dire? Che sì, questi sistemi sono programmati e vengono inseriti dei criteri, degli orientamenti da chi programma questi sistemi, ma poiché in realtà essi imparano dai propri errori e si evolvono in maniera automatica ad ogni volta che vengono interpellati, ogni volta che interagiscono con gli esseri umani, il timore è che poi possano svilupparsi avendo accesso alla universalità dei dati del web su tutti gli argomenti possibili e immaginabili, possono evolversi in maniera tale da essere poi non più controllabili e quindi addirittura ad acquisire una propria forma, per carità una forma sempre artificiale, ma una forma di un certo tipo di autocoscienza che li porti a prendere decisioni e ad avere dei comportamenti che potrebbero al limite essere opposti, contrari all'interesse umano. Beh, questo sempre, scusami se ti interrompo, questo sempre è vero quello che dici, ma questo sempre accade se chi li ha programmati ha previsto anche questo, cioè è sempre sulla base di chi programma questa, è una macchina, in fin dei conti quella è una macchina, è un ammasso di silicio sostanzialmente e di altri componenti minerali. Ma il tema è che appunto nel programmarli, nel programmarli sino ad oggi non sono inseriti certi, come dire, tappi, certi limiti. E non potranno mai esserlo. Perché se non vengono inseriti dei limiti molto stringenti al continuo sviluppo, non sarà più, cioè il computer si auto riprogramma e programma altri computer, quindi l'intervento umano rimarrà del tutto marginale se non alla fine verrà totalmente accantonato. E questa è la vera preoccupazione, è un tema che sembra fantascienza, che abbiamo visto in certi film di fantascienza come Terminator o altri, ma che è diventato terribilmente attuale e realistico. Anche perché... E quello che dicevi... Sì, scusami, scusami, no, no, prego, prego, completa. Quello che dicevi tu che attualmente è il primo argomento di preoccupazione, cioè la sostituzione del lavoro, no, delle persone da parte dell'intelligenza artificiale, già si verifica. Pensiamo soltanto che le analisi di borsa, no, dei flussi finanziari che si vedono sui giornali di trading online sono tutte fatte dall'intelligenza artificiale, perché nessun essere umano oggi avrebbe la capacità e la possibilità in pochi minuti di vedere tutti i dati dei mercati ed elaborare un articolo che appunto racconti, analizzi questi trend in tempo reale e lo faccia pubblicare appunto con una tempistica utile agli investitori. Già questo è una realtà, ma ci sono anche già dei programmi di intelligenza artificiale che sostituiscono il lavoro di liberi professionisti come gli avvocati, cioè si inseriscono i dati e ti scrive un'auto di citazione, una comparsa, una denuncia. Già scrivono i discorsi volendo per i politici stessi. Cioè ormai chi usa anche solo chat GPT si rende conto della portata enorme di questa rivoluzione e del fatto che la sostituzione delle capacità umane in quasi tutti questi settori intellettuali e di analisi e di elaborazione è già dietro l'angolo. Quindi anche il lavoro dell'insegnante, io ho scritto quel tweet perché quell'insegnante ha detto ah beh già adesso si possono usare, si può usare internet per avere accesso alle informazioni ma è sempre un tipo di sussidio che si affianca alle capacità umane dell'insegnante. E io ho detto spiegate a questa signora che non è così, cioè se continua così l'insegnante sarà completamente inutile perché un ragazzino, un bambino mettendosi di fronte a un computer con l'intelligenza artificiale avrà modo di fare i compiti, vederseli correggere, farsi spiegare dove ha sbagliato e perché ha sbagliato farsi prescrivere degli esercizi per migliorarsi, farsi correggere anche quelli farsi interrogare, rispondere, farsi esaminare e promuovere. Quindi davvero... Questo è così come dici, però può valere ad esempio per le materie scientifiche come la matematica, come la fisica, già sulla fisica... No, non solo, non solo. Ecco, no, però quando entriamo... Per tutte. Certo, per tutte. No, ti spiego. La validità, diciamo, di una sorta di macchina avanzata, io non riesco a chiamare l'intelligenza artificiale, sai questa è la mia materia, quindi è dall'82 che ci sto studiando sopra, per cui mi rendo conto di alcune cose, cioè tutto quello che noi chiamiamo intelligenza artificiale che sta su un computer in realtà sono programmazioni. Come tu dicevi prima, le macchine prenderanno il nostro posto, addirittura si autoriprogrammeranno. Certo, se noi gli diciamo di farlo e soprattutto se gli diciamo come farlo, cosa fare. Se io oggi faccio una domanda a chat GPT sugli argomenti, ad esempio, che tu hai trattato prima, dei vaccini piuttosto che... Lui ti risponderà come gli hanno detto di rispondere. Non ti risponderà come hanno risposto gli scienziati e medici che hanno parlato giorni fa a Bruxelles per questo evento che voi avete organizzato. Ti risponderà come invece ha detto Speranza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ti darà un'informazione sbagliata, perché così è stato programmato, perché qualcuno gli ha detto di... Ma guarda Fabio, è vero fino a un certo punto anche questo, perché sai, per esempio, è stata fatta la prova di chiedere a chat GPT come fermare la guerra fra Russia e Ucraina. E le risposte che ha dato non sono le risposte che dà il mainstream. Perché in realtà questi sistemi, che cosa fanno? Recuperano e analizzano e rielaborano tutte le informazioni disponibili sul web. Quindi fino a che sul web ci saranno disponibili anche informazioni, analisi, che danno delle risposte diverse da quelle mainstream, questi sistemi le includeranno nei propri ragionamenti e nelle proprie risposte. Sì, Francesca, finché qualcuno li autorizzerà di includerli. Per ora è così, per ora è così, non c'è, non ci sono questi tipi di programmi. Anche perché è difficile, ribadisco, è difficile in questi sistemi mettere dei paletti, dei limiti che davvero funzionino, perché basta cambiare il modo in cui si fa la domanda e si aggirano questi paletti. E queste sono cose che chi usa questi sistemi già sa. Quindi attenzione perché, per dirti, oggi si può ottenere da questi sistemi le istruzioni passo passo per costruire delle bombe. Certamente. Per accedere a dei sistemi di sicurezza, perché sono tutte informazioni che volenti o non volenti si trovano in rete. Quindi o si fa una task force mondiale per togliere dalla rete tutte le informazioni scomode o non utili, e auguri perché ogni giorno ne escono di nuove, o se no questi sistemi continueranno a usare anche quelle. E il problema è che appunto sia nel bene che nel male, attenzione, il controllo sul tipo di analisi, risposte, e quindi poi si attribuisce a questi sistemi anche una facoltà decisionale che verranno prese, non può essere totale. Cioè il tema è questo, nemmeno a fini negativi si può controllare del tutto questo tipo di sistema.